Obiettivo mezzala. Delicarri ha messo nel mirino il 22enne Lorenzo Meazzi in scadenza con Lentella. Contatti avviati da circa 10 giorni. Il calciatore Ligure non rinnoverà. Dopo tanti anni trascorsi nell'entella ha deciso di vivere un'altra esperienza. In questo campionato ha collezionato 19 presenze di cui 9 da titolare. C'è già un accordo di massima con Pescara, due anni e mezzo di contratto, scadenza 30 giugno 2026. Nelle ultime due partite Meazzi ha giocato un solo minuto domenica scorsa al Del Conero di Ancona. Il Pescara si è già mosso, i rapporti con il club Ligure sono ottimi. Nella lista di Delicarri Meazzi è la prima scelta. Lentella non ha intenzione di privarsene ma alla fine dovrebbe prevalere il buonsenso. La volontà del calciatore c'è. Probabilmente sarà lasciata una percentuale sulla futura rivendita al club Ligure che in assenza di rinnovo il primo febbraio perderebbe il giocatore a zero. Attesi sviluppi nei prossimi giorni. Calciatore offensivo, corsa e qualità, mezzala trequartista. Dunque elemento d'utile, Meazzi è cresciuto nelle giovanili dell'entella dall'Under 17 alla primavera sino ad arrivare alla prima squadra. Complessivamente 78 presenze con 7 gol all'attivo. Tre gettoni in B lanciato da Vincenzo Vivarini il 10 aprile 2021 nel match interno con la Salernitana. Quattro minuti in campo al posto di Morosini, quindi altre due presenze con Gennaro Volpe subentrato al tecnico abruzzese. Nel frattempo Delicarri ha confermato i contatti con l'Utrecht per l'attaccante Mes Ricks classe 2003 in scadenza col club olandese. 21 anni il prossimo 8 marzo, Ricks si è messo in evidenza nella seconda squadra dell'Utrecht che partecipa al campionato di serie B olandese. In totale 91 presenze e 20 gol. In questa stagione 19 gettoni e 5 reti. Punta centrale di movimento potente dal punto di vista fisico, veloce e di buona tecnica. Il contratto di Ricks con l'Utrecht scade il 30 giugno 2024. Delicarri ha già parlato un mese fa con i dirigenti del club olandese. Il Pescara prenderebbe il giovane attaccante solo a titolo definitivo. Le società continuano a dialogare, entrambe al lavoro per trovare una quadra sulla percentuale in caso di rivendita futura del giovane attaccante. Ma la trattativa non è semplice. Capitolo partenze. Dopo Manu e Ciocci, ieri ha salutato Luca Mora. Risoluzione e nuovo contratto sino al 30 giugno 2025 col Fiorenzuola, girone A della campionato di serie C. In lista di sbarco anche Tommasini, cui è fortemente interessata la lucchese, è Edoardo Vergani. Lunedì il posticipo casalingo col Perugia, ore 20 e 30, diretta sul Rai Sport. Tutti a disposizione di Zeeman, tranne Pellacani e lo squalificato Messic. Nel cuore della difesa ha scontato l'impiego del tandem brosco di Pasquale. Certi di una maglia anche plizzari, Aloy e Merola. Per il resto, tanti dubbi. Il Perugia di Alessandro Formisano, promosso dalla primavera dopo l'esonero di Francesco Baldini, ha tesserato il centrale olandese Lewis, classe 2000. Ancora assente per squalifica Lisi. Altresì, ai margini, causa infortunio, Basquez e Morichelli. In dubbio Federico Ricci. Lieve distorsione al ginocchio, ma lo staff sanitario Umbro spera di recuperarlo. Dalla squalifica rientra il giovane Seghetti, classe 2004, che nel probabile 3-5-2 di partenza farà coppia in attacco col senegalese Silla.